1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hai perso tu, forza 4! Buonasera a tutti carissimi amici bentornati sul canale del Briga, ho aspettato stasera per fare il video perché avevo un sentore, avevo un sentore, l'aspettiamo, aspettiamo innanzitutto che cosa decidono di fare con questa sentenza, aspettiamo la sentenza, vediamo che cosa ci dicono, e poi visto che stiamo ci vediamo la partita, questo Empoli-Juventus e vediamo un po', perché così abbiamo un quadro preciso della situazione, tra l'altro oggi ha giocato anche la Roma in casa contro la Salernitana, ebbene sì guagni, ebbene sì guagni, è una gran bella serata, e sono veramente felice, ma non bisogna essere contento e le disgrazie a tutti, non bisogna essere contento e le disgrazie a tutti, ma se quando venne a me succede il putiferio, ogni qualvolta succede a noi una sconfitta, una cosa, stanno centinaia e centinaia di commenti di persone che godono, che fanno, che mettono risatine, che se che sa, e quindi adesso mi sentite, che è bella serra ragazzi! Allora, come per magia, in questo momento siamo quarti e siamo anche abbastanza messi bene, abbastanza messi bene, cambia tutto e non niente, amici gioventini, che cosa è successo? Da in un momento alto siete andati a giocare una semifinale di Europa League contro il Sevilla, un Sevilla di mezza classifica, e vanno c'è niente, e vanno c'è niente, ed è stato bello e te ne sei andato a casa, e poi dopo due o tre giorni ti sei ritrovato con un 4 a 1 sul gruppone dall'Empoli, ti sei ritrovato con un meno dieci in classe, ma ma ma, non ti capisci uno, poveri gobbi, poveri uffendini, non vorrebbe chiederti chi è, ma è bello! Michele, 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 Michele Dunes, attanto voi che sei venuto a scrivere sopra Facebook, lo commento, lo commento, bello Michele, godo, bello, 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 niente ancora, nulla è ancora deciso, alla fine tutto può ancora cambiare, c'è il mio voto che può confermare o ribaltare la situazione, bello, 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 bella serata, la Roma che pareggia, la Roma che pareggia anche con la Salernità nel Giacciuto Bun, che la stavano a perdere la partita, quindi ragazzi la situazione è questa qua, adesso dobbiamo praticamente fare una vittoria e siamo in Champions, chiaramente, chiaramente, come dice il proverbio, Morstua, Vita Mia, e quindi ragazzi, mi dispiace per voi, ma la tua morte è la mia vita in questo caso, quindi, Pird, Mur, che ne ho ma scena, che è bello! Dai, va bene così, poi, stavo dicendo, adesso però, bello bello a cantare vittoria, perché? Perché ovviamente adesso, noi abbiamo già visto in Italia scene di questo tipo, togliamo i punti, mettiamo i punti, ritogliamo i punti, li rimettiamo, poi c'è il processo, l'abbiamo fatto a mezza giornata, io ci hanno visto, sono fatti, sono anch'io senza una camera, dalle 11 stamattina ha iniziato il consiglio, da dove, ma ogni giorno ci ha avuto un occhio, a lei, una luna e mezza, le due, le due è menù, d'un gommato, non so, dicendo una fe, sono andata a mazzata, e poi invece, in tarda serata è arrivata la notizia del meno 10, che comunque ragazzi, se vogliamo dirla tutta, non è una pena di chissà che cosa, perché non è una pena afflittiva, che diciamo, a come e e, ti toglie definitivamente le speranze di andare in Europa, no, ti dà ancora la possibilità di giocartela, invece poi sei andata là, evidentemente, psicologicamente, hai subito il contraccolpo, e poi si paghietto quattro gol dall'Empoli, dal real Empoli si paghietto, bello, bello veramente, poi, come dicevo, non è finita ragazzi, non è finita qua, perché, perché chi si muove un ricorso, l'ennesimo ricorso, prima nasce al Tar del Lazio, poi nasce al Tar di Lausanna, poi nasce al Tass, poi nasce alla Cass, poi nasce alla Pass, poi nasce al Caz, e poi, e poi, vediamo che, dove altra nasce al Tar di Lausanna, al Tar di Mariotto, al Tar di Betret, tutti hanno fatto, adesso cercheranno tutti i modi, e poi, e capisco a giù di andare in red, non è che è finita qua, quindi, staremo a vedere, tipo una classifica, dove, a un certo punto, glieli hanno tolti, poi glieli hanno rimessi, poi glieli hanno ritolti, e poi capisco che glieli rimetteranno, e quindi questo saliscendi di emozioni, solo in Italia si vivono queste, venite in Italia, guardate il camionato italiano, che è bello, ogni cosa ci si diverte, si vedono cose, che dagli altri parti non esistono, quindi aspettatevi, ancora di tutto e di più, io oggi festeggio, perché, è una bella serata, cioè voglio dire, da un momento all'altro, stanno a reddare, che possono, sono chiesto in mezzo alla merda, a reddare da un momento all'altro, fuori dall'Europa, sognavano di vingere l'Europa League, da che se dice, vingiamo l'Europa League, ma poi c'è la UEFA, che non vuole vedere la morte, perché noi ci siamo messi, con la Super League, no ma non è quello, io ho sentito la Cristi Lin, che dice, noi Juventini, cioè che se stai all'UEFA, e dice, per noi Juventini, un brutto colpo, come per noi Juventini, ma stai all'UEFA, ma cerca di, di mantenere, perlomeno una decenza, state cheat, fai fin di nudo, cose dell'altro mondo ragazzi, 4 a 1 dall'Empoli, 4 a 1 dall'Empoli, veramente una serata spettacolare, come vi dicevo, la Roma non ha vinto, quindi adesso andremo a giocare a Torino, con, con 5 punti di vantaggio, e quindi poi vediamo, io vorrei chiudere il discorso, proprio a Torino, bel, sub to sub, non lo vediamo, non lo vediamo da, non siamo tranquilli, pick a pick, e poi ci sarà l'ultima partita in casa, contro il Verona, l'Atalanta, che è un'altra partita, diciamo, un'altra squadra da tenere, sott'occhio ancora, giocherà contro l'Inter, quindi l'Inter, in questo momento qua, ci troverà anche abbastanza, in difficoltà, perché magari, non vuole mettere un gol a noi, e vuole fare, fare in modo, che l'Atalanta magari, magari faccia punti, ma in quel caso, anche l'Inter, poi andrebbe a rischiare, quindi non lo so, c'è tutta una situazione, insomma, da, ancora da, c'è ancora da lavorare, c'è ancora da lavorare, ma certo è che oggi, è stata una giornata, veramente importante, sotto tutti i punti di vista, e andiamo ad avvertire, la tastetta bella, ripeto ragazzi, dici ma tu, così colà, non è bello, godere degli assassioni, tu vedi, stiamo attenti per i gatti, noi siamo signori, noi, noi non possiamo essere contenti, della cosa, aspi, aspi, bella bella, bella bella dacci, bella bella dacci, qui non è che, da un momento all'altro, da un giorno all'altro, siccome la Juve, sta avanti in classifica, dici ma, ehi, quelli stanno avanti in classifica, ma non riusciamo ad andare in Europa, come dobbiamo fare, ma si danci 15 punti di penalizzazione, ma si danci 12 punti, no, non è così che funziona, qui diciamo, mettiamo le cose in chiaro, perché mo, non è che li vogliamo far passare, come dei, come, sai, in anzio, la parte lesa, cioè, non è che adesso, da un momento all'altro, questi, da essere quelli che hanno fatto, cose che non dovevano fare, mo, ci dispiace pure, dispiace per la Juve, e perché no, perché questo campionato, se lo sono fatto, no, non è che questo campionato, l'hanno fatto, questo campionato, l'hanno fatto, questo, quello dell'anno scorso, gli altri ancora, li stanno facendo, cercando di, imbrogliare, ok, cercando di, eh, far finta di, eh, fare sotterfugi, cose che riescono poi, a fare in modo, che queste sono, i giocatori che la Juve, riesce a mettere in campo, giocatori che magari, non potrebbe nemmeno permettersi, falsi in bilancio, eh, stipendi pagati, pagati praticamente a nero, mensilità, che adesso che sono, non sono state pagate, e invece, non paga, non paga la tasse, qua è successo di tutto e di più, quindi ragazzi, non facciamo, a parte il discorso delle plusvalenti, d'où c'è l'uco, c'è l'uco, e secondo me, la cosa non è ancora finita, quindi bisognerà vedere, ma ti va con la vita, Emanuele, metti a conto da me, tu dici, bufate, che io no, tu non hai capito niente, non hai capito, non ho capito, tu dici, che ci avevo capito, un po' di più di te, e infatti, questi sono i risultati, per me, state sotto, la prossima volta, se devi prendere, dei giocatori, fatti dei conti, bella, come facciamo io, senza l'assolta, senza l'anudice, noi questo non ce lo possiamo per me, ah, non ce lo possiamo per me, no, ok, vai a prendere un più scarso, e probabilmente, in campo, farai meno punti, così come ti succede, da un paio d'anni, a questa parte, quindi, caro amico mio, cari amici miei, Mattit, Volan, Mambes, chi sbaglia, deve pagare, la Juventus è stata penalizzata, bella, bello, va bene così, va bene così, e adesso dobbiamo completare l'opera, cerchiamo, ho detto, aspettiamoci, ricorsi, super ricorsi, Christemadon, però, è stata una bella serata, godiamocela, che è bello, va bene, va bene così, bellissimo, iscrivetevi al canale del Brigh, lasciate un like, condividete, forza la lotta, e vingerà, non ti lasceremo mai, ciao a tutti.